Grazie a tutti. Eccoci a Borghetto. Velocità media? 110, 105. Guarda, ci sono i frecchiettoni con le bancarelle. Eccoci, in preda, una ballotta di mucche. Siamo sul Monte Baldo. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Oh, non ho visto il cavalletto. Vedi perché dicevo che conveniva aspettare un attimo nel tuo? Eh, oggi è proprio una brutta giornata. Anche oggi è una giornatazza. Eh, è proprio una giornatazza. È proprio una brutta giornata. Aveva fatto che non aspettaroni qua con me. Ho bisogno di mandare giù. Mi ricordavo che c'era il posto. Vuoi? Merdo, ragazzi. Guarda, c'è proprio la spiaggia. Aspetta, aspettatelo. Ma come cazzo l'ha fatto? Ma l'ha fatto a costruirlo? Sono arrampicati, si sono cadati dall'alto. E non avete neanche ancora bevuto, pensa. No, adesso, ma perché c'è le foto che l'ha detto della scorsa. Ma qualunque erai qua? C'è un apponto dove avete tutte le moto, perché passi davanti. No, praticamente, la scorsa qua. Ah, lo diciamo. Mi lo toglieresti così tanto? No, è che finì a tavola. Il buon boxer cosa ci racconta? Il buon boxer. Solo con una rampa. Una panoramica del piatto. Stai. Mangiamo. Mangiamo. Anche io, non ho mai volato, non ho mai volato. No, vai di carne salata. Mi viene da rimanendo il mezzo. Ma magari capiterò. Sì, sì. E ti dirò più il merito. Sì, sì. E ti dirò più il merito. E ti dirò più il merito. E ti dirò più il pomaggio e le può contare. Ma il menù è un cazzo cavallo. Allora, Papa, ti sei nutrito. Molto bene, la verità. Ma è un boxer se viene là. Sì, la verità che il boxer è stato sopra i seriti. Non lo so. Si deve inserito a mangiare. Sì, si sono anche... ...è fuori, mi anche. Allora, poi, un po' fame. Allora, vuoi un po' d'acqua? Lei vuole il vino? Tu sei che è stato là con un'ora deve arrivare a l'acqua. Adesso meto la porta. Hai sì, eh? Adesso metti bello. Adesso metti bello. Adesso metti bello. Adesso metti bello. Guarda. Guarda. Suominenza! Una giornata c'è anche oggi. Anche oggi una giornata c'è. Una giornata c'è proprio. E' anche il sole. E' anche il sole.